Francesco Posocco, sconfitta che ci può stare? Quali sono stati gli attenuanti da parte tua? Beh allora, diciamo che questa qua è stata una sconfitta un po' che ci aspettavamo così, anche se siamo entrati in campo per mettercela tutta, perché comunque volevamo assolutamente strappare almeno dei punti. Poi abbiamo visto che loro come squadra, come singoli, sono anche più, diciamo, più bravi di noi e abbiamo fatto la nostra partita, ma non è bastardo. Ascolta, ti abbiamo visto particolarmente Pimpante oggi, ha fatto bene l'esperienza con la nazionale, dilettanti? O Mari, precedentemente stavi attraversando un periodo un po' così, che non eri anche te, Mari, stavi poco bene? No, no, beh, ma in questo periodo mi sento bene, anche sono andato in nazionale e dilettanti, ho giocato bene, mi sentivo bene in forma, adesso sto riprendendo e mi sento in forma a far bene. Ascolta, in prospettiva, hai già accennato a te che non dovevamo far punti con queste squadre qua, adesso abbiamo tre scontri diretti, uno dietro mano dell'altro e là bisogna cercare di giocarsene tutte le nostre carte, insomma, se vogliamo uscire da questa situazione così di chi va là, insomma, quindi convinti e compatti, insomma, un po' come oggi, forse più propositivi magari, che non abbiamo tirato tanto in porta oggi. Tini fiduciosi comunque, insomma. Sì, sì, cercare di mettercela tutta perché sono sfide queste che affronteremo importantissime. Sì, poi con squadre anche alla portata, insomma, rispetto a questo. Sì, certo, rispetto a Pordenone. Dove abbiamo visto anche che durante l'anno ce la siamo scavata molto meglio. Va bene, grazie mille. Grazie. Grazie.